More, dove stiamo andando? Aspetta che ti insegua, dimmi dove stiamo andando Tanto non ti apro la macchina, dimmi dove stiamo andando Al Mugello Oh bella raga, allora sono le 7 o qualcosa E ci stiamo recando l'autodromo del Mugello Avvio itinerario per Autodromo Internazionale del Mugello E niente, ringraziamo la gente che si schianta da sola in autostrada e fa la coda Sto qua si è ammazzata Ma porca, ma è possibile che la gente continua a schiantarsi? Allora bella raga, ci siamo fermati in una stazione di servizio Mangiamo tipo una brioscina o qualcosa E poi procediamo con l'ultimo centinaio di chilometri, penso, qualcosa del genere Fino all'autodromo del Mugello Dove andremo a vedere una gara di trattori Poi mi fa impressione perché si muove Alla testa di schiena di acchialare Allora daremo un voto a Location Menù Servizio E conto Come location Non ci siamo Non mi piace Io ho dato 5 Il menù Mi piace Io ho dato 10 Il servizio Mi piace Io ho dato 10 Il conto Quanto avremo speso? Secondo me abbiamo speso 100 euro Tondi tondi Abbiamo speso 1,50 euro Troppo? Troppo poco? Mi piace 10 Bella ragazza, allora siamo appena arrivati al parcheggio Probabilmente questa inquadratura ballerà un po' Ma ragazzi, cioè, per terra Adesso ho parcheggiato a Poggi Bonsi in cima al greppo E mi sto recando allo stand della Suzuki Per ritirare il mio biglietto e tutto il kit blu elettrico La mia ragazza l'ho abbandonata Quindi rip Gaia, mi spiace Allora ragazzi, siamo arrivati allo stand Suzuki Chi è che c'è qua dentro? Noi Vuoi sentire un po' i profumi? Mmm, che bontà Ciao socio, com'è? Dato Caldo? Ti vedo Però deve stare a ramadonna Pronto Cotatori Limitatori È proprio brutto, guarda Onesto Allora raga, stiamo facendo il cammino Santiago de Compostela Per arrivare alla tribuna Là c'è Naso Boy Là c'è Gamberetto Si Fa un caldo porco Due cammelli stanno provando con scarsi risultati A bere Oh, com'è? Oh, com'è? Finalmente ragazzi, cancellate i nostri post in tribuna Raga, le moto fanno un casino tremendo Quindi perderemo l'uso delle orecchie Cotatori Vitaia, Vitaia, sei testa, che ne vuoi iscrivono, sei in cara testa, come la dicoia, che voglia non viova, che stava vidova, La Valoranta ha partito, a un livellaztammati e gutta, che voglia non viova, che viva, che si costruita, dejare a vipire la vita, che non viova, che viva la sua来ata, che viva la sua bia e che viva la data. Buon mio pazzo! Attenzione, mi toccano l'esattiva, con questo incredibile applauso! Un'altra volta, mio papà, il mio papà, il mio papà, il mio papà, il mio papà! Il mio papà è il messo, il mio papà! Vitucci! Che bella la sportività raga, bellissimo! Va a vincere il Gran Premio d'Italia 2018 Orchè Lorenzo! Secondo! Tocca di Andrea Domuzioso Piazza Rossi Allora raga, gara finita Sono arrivate prime le Ducati Terzo Rossi Non male Marquez è volato Però poi si è rimesso in piedi Non si sa come Grande, sono contento Due moto italiane In testa, ci sta Bello, mi piace Va la gara Allora raga, siamo in macchina Quest'ultima era a 156 milioni di gradi Adesso aspettiamo 15-20 minuti Che si raffresca un attimo Che la gente vada via Perché non si riesce a uscire C'è troppa coda E già ragazzi C'è coda anche a tornare in autostrada Non ne posso più Non ne posso più